Nasce un secondo istituto comprensivo sul territorio di Monte Corvino-Rovella. A San Cirlo la Regione Campania nella delibera che ha aggiornato il piano dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2019-2020 attribuendo un nuovo codice meccanografico di scuola secondaria di primo grado in località Macchia. L'offerta formativa del nuovo istituto comprensivo sarà composta da una scuola di infanzia, una scuola primaria ed una scuola secondaria di primo grado. Un risultato importantissimo è stata una promessa fatta in campagna elettorale e dal primo giorno che ci siamo insediati insieme all'assessore 40 abbiamo lavorato per la creazione di questo secondo istituto comprensivo. Grazie anche alla Regione Campania siamo riusciti ad avere questo grande risultato. Oggi Monte Corvino-Rovella ha una situazione scolastica molto più fluida, molto più forte avendo un nuovo istituto comprensivo e siamo riusciti ad avere con la creazione di questo istituto comprensivo un nuovo codice meccanografico per una scuola media a macchia che finalmente ha un codice e si va a stabilizzare. Stiamo lavorando anche in questi giorni con le dirigenti scolastiche per collaborare, per far sì che le istituzioni scolastiche possano avere sempre maggior importanza per dare ai ragazzi una scuola forte, sana e soprattutto formativa. Un modo anche per dare un'offerta formativa agli alunni omogenea. Molto in questo contesto, oggi abbiamo la possibilità di poter avere due studi comprensivi e questo per noi rappresenta un grande risultato, un risultato che è frutto di un lavoro certosino con gli uffici della Regione Campania, con la provincia di Salerno e che ha portato veramente un risultato ottimo per Monte Corvino-Rovella. Appena insediati ci siamo da subito attivati, avendo subito degli interlocutori molto validi sia alla Regione che alla provincia, ai quali appunto abbiamo presentato il nostro progetto e quindi siamo felicissimi dell'ottenuto risultato che sicuramente sarà un'occasione in più per la nostra comunità e per il nostro territorio. Se sono un risultato ancora più importante alla luce del fatto che sono solo tre i codici meccanografici rilasciati sul territorio della provincia di Salerno. Infatti per questo siamo maggiormente orgogliosi perché non è da tutti ottenere un risultato del genere e pertanto veicoliamo questa opportunità, ripeto, al territorio che ci farà contraddistinguere maggiormente nell'ambito dei comuni a noi limitrofi.